Un anno fa erano ad esibirsi a Los Angeles con mille sogni in testa e il grande desiderio di fare qualcosa di grande con la musica. Ma poi la cantante se n'è andata, purtroppo. Ma ora, per fortuna, hanno incontrato Andreina. E per loro è iniziata una nuova avventura. Ora i ragazzi devono solo riuscire a raccogliere il grano necessario per registrare il disco. E qui entrate in gioco voi, fatta che il loro sogno diventi realtà. Un sogno grande come le praterie da cui vengono. Là dove il sole si confonde con l'orizzonte. Scusate, ricordo. Spero che ci incontreremo ancora lungo il cammino. Ehi amico, hai ancora salsa pariglia? Con la buona, eh? Sì. 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 Grazie a tutti.